Venom 2, la furia di Carnage Wabalabadabdab e bentornati su No Mamamazzo Bentornati nella rubrica Marvel Bentornati nell'universo Sony dei personaggi di Spider-Man Giusto, se non sbaglio Continuiamo a parlare di Venom Dopo che abbiamo visto il trailer Dopo che abbiamo parlato del fumetto Io Sono Carnage Allora, sicuramente avete visto già un sacco di recensioni In cui tutti i vari streamer, youtuber, eccetera, eccetera Lo hanno totalmente demolito questo film Anche al netto delle zero aspettative che avevano quando sono andati a vederlo Devo dire che anch'io avevo zero aspettative quando sono andato a vederlo E sono andato a vederlo per due motivi Uno è che volevo parlarne con voi sul canale Il secondo motivo è che comunque, male che vada Avrei visto la prima, diciamo, trasposizione cinematografica di Carnage Esattamente come quando sono andato a vedere Tartarughe Ninja 2 Fuori dall'ombra Che sapevo che era una merda esattamente come il primo Esattamente come Tartarughe Ninja del 2014 Ma sarebbe stata la prima apparizione cinematografica di Bibi Bopper Rocksteady E devo dire che sulla base di questo Quando sono uscito dalla sala dopo che ho visto la furia di Carnage Non ho avuto la stessa sensazione di sporco addosso Di come quando ho visto Tartarughe Ninja 2 Quindi se voi, almeno se voi Io andando con zero aspettative E prendendolo per quello che è Quindi per un film molto cacciarone Molto trash se vogliamo Che vuole continuare il filone del primo Perché il primo per qualche ragione ha guadagnato 800 milioni di dollari Al netto di questo devo dire che L'ho anche gradito Potreste gradirlo se non siete troppo impegnati a odiarlo Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace a questo video E anche a tutti gli altri che ve frega Di condividere il video con tutte le persone che hanno un amico rosso Con un simbionte rosso E di commentare qui sotto con quello che viene apparso di questo film e di questo video Fatemi sapere se preferite il primo o il secondo film Cosa vi aspettate dal futuro Anche alla luce della scena post credit Allora se parliamo per un secondo della parte non spoiler Io ho trovato che questo film sia stato davvero troppo veloce Nel senso che, ok, dura un'ora e mezza Che è perfetto per un film del genere Perché due ore e mezza sarebbe stato un sequestro di persona Però magari un'ora e quarantacinque Un'ora e cinquanta Forse ci avrebbe aiutato a aggiungere dei dettagli Che non dico che avrebbero dato un po' più di profondità alla storia Ma quantomeno un po' più di senso Invece, complici tutti questi tagli Che credo li abbia voluti la Sony La produzione, non certo il regista Complici tutti questi tagli abbiamo avuto un film Che proprio nei dettagli fa le sue scelte peggiori L'introduzione è velocissima Siamo gettati nel mondo di Venom Come ci avevano lasciati nel primo film Non c'è uno spiegone iniziale Che francamente per un film di questo livello mi aspettavo Ma non essendoci uno che non si ricorda nemmeno vagamente il film Non sa davvero cosa possa essere successo Uno che non ha visto il primo film Si chiede perché Venom abbia questo parassita E allo stesso tempo il rapporto tra Cletius e Eddie Brock È davvero troppo veloce Si vedono pochissimo tra di loro Io avrei preferito che un rapporto che si sviluppasse di più nella pellicola Un po' alla silenzio degli innocenti Invece no, viene visto davvero poco Come hanno detto tutti Non c'è una vera e propria parte centrale Mi aspettavo almeno più di uno scontro tra Eddie e Cletius Invece si vedono all'inizio, si vedono alla fine Non c'è una parte centrale Nella parte centrale i due personaggi si fanno i cazzi loro E questa cosa non mi è piaciuta molto Avrei preferito che comunque interagissero almeno una volta A differenza di altri Io i comprimari li ho apprezzati Mi è piaciuto il personaggio di Shriek Mi è piaciuto il personaggio del poliziotto Soprattutto alla fine Ovviamente va da sé che Se devo pensarla Come uno che vuole fare un film su Venom Non avrei mai scelto questo stile per Venom Per Venom avrei scelto Uno stile che proprio rasentasse l'horror Ma rasentasse l'horror tipo Se proprio non vuoi far vedere un horror a tutti gli effetti Fammelo alla Sam Raimi Alla Casa 2 Però ok che vuoi stare nei PG-13 Ok che vuoi prendere una fetta ampia di pubblico Però tutte le uccisioni Soprattutto quelle di Carnage Fuori dallo schermo Outscreen Non hanno senso Anche perché Carnage davvero non ammazza Tanto per Ammazza in modo brutale Parlo di corpi smembrati Non vuoi farmeli vedere? Lo capisco Ma fammi vedere Fammi capire Che li ha smembrati Che non si è limitato a Sbatterli lontano Per Per Scappare Lì la differenza tra Anche tra Venom e Carnage Carnage è davvero fuori di testa È capace che ti possa Comporre una parola Con i resti del corpo Di una persona Che ha smacellato Bene dai Andiamo nella parte Spoiler Anche se ovviamente Parlerò di cose che c'erano Anche nel primo film Quindi vabbè Se però proprio non volete sapere nulla Anche riguardo Carnage Stoppate il video Guardate il film E tornate qua Altrimenti continuiamo a parlare Allora la caratteristica più brutta Del primo film Oltre al fatto che Hanno creato delle origini di Venom Che toglievano dall'equazione Il rapporto con Spider-Man Che per me non aveva assolutamente senso Dato che Venom Tra tutti i nemici di Spider-Man È quello che È più legato a Spider-Man Proprio perché nasce come costola di Spider-Man Ma qui hanno fatto diversamente Va bene Forse potrebbero aggiustarlo In base a quello che abbiamo visto Nella scena post-credit E poi vi spiego perché Però vabbè A parte quello La cosa più fastidiosa Era questo rapporto Da coppia sposata Tra Venom Tra il simbionte E Eddie Brock Questa cosa Invece di smorzarla L'hanno perpetuata E l'hanno anche accentuata Perché questo? Perché io credo che Quando una produzione Vede il successo Del primo film Impone In un certo senso Al regista Delle regole Per cui Quel filone Si deve continuare Fa niente se la critica Non lo ha apprezzato Ma se ha fatto successo Allora tu devi tenermi Quel filone Non puoi smorzarlo Leggermente E così abbiamo Tutto questo rapporto Proprio di coppia Sposata Tra Tra Eddie E il simbionte Che litigano Si lanciano Gli oggetti Si lasciano E si ritrovano Vabbè In tutto questo Sempre per continuare Il filone Vediamo che anche Carnage Ha un rapporto Di scambio Di chiacchiere Con il proprio simbionte Il che davvero Non È ancora più Fuori senso Dato che A differenza di Venom Che parla sempre al plurale Dice Noi siamo Venom Carnage Non dice Noi siamo Carnage Carnage dice Io sono Carnage Cletus Kas Di E' Carnage E' talmente insimbiosi Con il suo Simbionte alieno Che E' un'estensione Di se stesso Ed è per questo Che Il finale del film Cozza Con il Carnage Dei fumetti E' coerente Con la trama Del film Però Si discosta Da quello Che uno Che ama Carnage Si aspetterebbe Dal personaggio La scena Tanto odiata Da tutti Di Venom Che è pieno Di lustrini Pieno di Cosette colorate Al collo Ad una festa Non è nemmeno La peggiore del film La peggiore Sono proprio Questi dialoghi Questi litigi Tra Eddie E il simbionte Perché In quella scena Particolare Quanto meno Il simbionte Non stava Possedendo Eddie Brock Stava possedendo Persona dopo persona Perché avevano litigato Quindi per carità Avrebbe potuto Tranquillamente Possedere una persona Che aveva Quell'inclinazione E ha fatto Questa scena Quasi di Di coming out In cui Si mostra Per quello che è Dopo che era stato Nascosto Nel corpo di Eddie Per tutto questo tempo Ci sta In quella Particolare scena Ma ripeto Non è la cosa Peggiore del film Tenete presente Se guardate i titoli Di coda Che Tom Hardy Ha anche contribuito Alla sceneggiatura Di questo film Non lo ha solo Interpretato Quindi Non è Una vittima Di quello che abbiamo visto Ma ne è complice Per quanto riguarda Invece Woody Harlesson Che ha interpretato Cletius Cassidy Devo dire Che mi è piaciuto Davvero tanto L'interpretazione Iniziale Di Cletius Cassidy Addirittura Diciamo che Mi è sembrata Nel bene Nel male Quello che io Mi aspettavo Da Carnage Ovvero Carnage Per come lo vedo io È come il Joker Dell'universo Marvel A livello di pericolosità Lui uccide In maniera davvero Molto pericolosa Addirittura In maniera Molto più Brutale e gratuita Del Joker Perché quantomeno Il Joker appunto Uccide quando è divertente Carnage uccide Quando può farlo Quindi sempre Questa follia Questa pericolosità Di Carnage L'ho percepita Davvero tanto Nell'interpretazione Di Woody Harlesson Anche se Non Proprio Perché si sono visti Solamente due volte Tre Con il primo film Non capisco Questo Attaccamento Questa ossessione A Eddie Brock Non ha assolutamente senso È fuori di testa Come cosa Perde un po' La pericolosità Di Cletius Cass Di quando Appunto Lui Diciamo Fa tutto Quello che fa Per una motivazione Perché Carnage Non fa quello che fa Per un motivo Non c'è uno scopo Che lo spinge Ma semplicemente È la voglia Di uccidere Mentre qui Hanno dato al personaggio Uno scopo Cosa che Può avere un senso A livello cinematografico Perché dare a un personaggio Uno scopo Te lo fa Sentire più In empatia Con Con lo spettatore Allo stesso modo Il fatto che Venom Parli con Eddie Brock Come se fossero Due entità Separate Non ha senso Ma Dà allo spettatore Un dialogo Che altrimenti Sarebbe solo Nella testa Di Eddie Brock E noi non vedremmo Nulla Vedremmo Tutto Nella testa Di Eddie Quindi Ci sta che sia Un espediente Narrativo È comunque Trattato in modo Fastidioso E anche qua Ci sta che sia Un espediente Per farci affezionare E provare quasi empatia Per un personaggio Che comunque È carismatico Come quello di Carnage Però appunto Lo forvia Leggermente Da quella Che è L'essenza di Carnage Quindi Carnage Agisce Come Il Joker Di Suicide Squad Del 2016 Quindi lui è spinto Dalla voglia Di ritrovare La sua amata Shriek Che nei fumetti Si Si chiamano Fidanzati In una o due Storie Ma è una cosa Che ha Nella testa Shriek Di certo Non ce l'ha Cletius Però vabbè Si segue Questo filo Conduttore Lui è mosso Da ritrovare Shriek E quindi Proprio per questo Affretta di arrivare In tal posto E non si diletta Troppo In uccisioni Troppo Colorate Troppo variegate Ed è questa La cosa strana Perché comunque Cletius Avrebbe dovuto Uccidere Delle persone In maniera Molto Diciamo Creativa E invece Non lo fa L'unica scena In cui ho percepito La reale minaccia Di Cletius Cassidy È quando Entra in questo negozio In questo Quickie Mart E uccide Una persona a calci Senza l'uso Del simbionte Qui fanno Vedere Quanto è mostro Come lui stesso Dice A prescindere Dalla sua simbiosi Proprio per differenziarsi Da Eddie Brock Che comunque In questo film È buonissimo Sempre nella scena Del Quickie Mart C'è questa cosa Gratuitissima Che presumo Sia dovuto Proprio anche Al fatto che Il film Dura un'ora e mezza In cui lui Accedendo A internet Attraverso Il simbionte Riesca A scoprire Dove si trova Shriek Accherando Il sito Della polizia Il sito Delle FBI Ma non ha senso Perché il simbionte Non ti dà Questi poteri Avrebbe avuto senso Se Cletius Cassidy Fosse stato Un genio Dell'informatica E quindi Con il suo Know how E con i poteri Del simbionte Avrebbe persino Bypassato La tastiera Ma Il simbionte Da solo Un simbionte Appena nato Da solo Non ti dà Delle doti Che non avevi Perché sennò Siamo nell'ambito Della magia E non ha senso Nemmeno nel film Io francamente Tutte queste cose Le mando giù Le faccio passare Perché so Che il film Che sto guardando È quel tipo di film E non me ne frega niente Voglio vedere Carnage E Venom Che si danno Botte da orbi E finalmente Io li vedo Li vedo soltanto Nell'atto finale Perché appunto Nella parte centrale Eddie e Venom Sono separati Carnage Sta cercando Uscire Ecco Ognuno si fa i cazzi suoi Non c'è uno scontro Che come in un film Normale Dovrebbe esserci Uno scontro Nella parte centrale Per poi In cui viene sconfitto Brock E poi nella parte finale C'è la rivalsa Questo dovrebbe succedere A livello di trama In un film normale Non succede Ma non fa niente Mi è piaciuta L'ambientazione finale Nella chiesa Perché ha ricordato Sia Spider-Man 3 In cui Peter Parker Per liberarsi Del simbionte Usa le campane Della chiesa E sia il fumetto Dove appunto Peter Parker Si libera di Venom Grazie al campanile Della chiesa Un'altra citazione Al fumetto È quando Cletius E Shirek Incendiano L'orfanotrofio Dove sono cresciuti Appunto È un rimando A quando Cletius Nei fumetti Da bambino Incendiò La casa La casa Famiglia L'orfanotrofio Dove era cresciuto Quindi mi è piaciuta Questa citazione Mi è piaciuto Che a ogni rintocco Della campana I simbionti Si rinascondevano Nei corpi Di Cletius E Eddie Dando luogo A una vera e propria Scazzottata tra umani Tra un rintocco E l'altro E mi è piaciuto Anche che Mi è piaciuto Diciamo che Nello scontro finale Ovviamente Vince Venom Vince per un motivo Stupido Nel senso che Vede che Cletius E Carnage Non sono in simbiosi Quando l'ho detto all'inizio La simbiosi di Carnage È molto più forte Di quella di Eddie Proprio perché Non c'è assolutamente Conflitto morale In Carnage Però vabbè È in linea Con questo Carnage Perché Cletius è innamorato Di Shrek Mentre Carnage È spaventato da Shrek Perché ha come potere L'emanazione Di onde soniche E quindi Gli fanno male Quindi c'è questo odio Tra Carnage E Shrek Che Che Cletius Non accetta Quindi è qua Che manca la simbiosi Ci sta A livello Di trama Del film Non ci sta Con il fumetto Avevo pensato Fin dall'inizio Che Shrek Alla fine Si ribellasse Alla follia Di Carnage E orientasse Il suo urlo sonico Verso di lui Per aiutare Venom A sconfiggerlo Ma non ha senso Come lo hanno trasposto Perché davvero Il fatto che possa uccidere N Non è nulla Di più grave Di tutto il resto Però vabbè Fa niente Ripeto È un continuo Fa niente Perché va bene Perché è come guardare Non so Un cartone animato Mi è piaciuta La presenza Del poliziotto Soprattutto quando Ho realizzato Alla fine Chi era Patrick Mulligan Nei fumetti di Venom E sono felice Che arriverà Il personaggio Di Toxin Che è uno dei miei Simbionti preferiti Forse perché l'ho visto Nascere in contemporanea Mentre leggevo Spider-Man Quindi non ho ripreso Una vecchia storia Ma mentre io Da adolescente Lo leggevo È nato Toxin E quindi Non vedo l'ora Di vederlo In un eventuale Terzo film Anche se Francamente Non avrei usato Quell'attore Per il ruolo di Toxin A quel punto Però fa niente Tanto è tutta CGI Che ce frega Mi è piaciuto Che Venom Abbia mangiato Il simbionte Di Carnage Per sconfiggerlo Perché è un'altra Citazione ai fumetti E poi tanto lo sappiamo Che se vogliono Far tornare Carnage Torna in un altro modo Perché si sviluppa Dal suo sangue Invece Mi ha dato Molto fastidio Che Abbiano Eliminato Il personaggio Di Cletius Con Venom Che gli mangia la testa Però ripeto Magari può Riformarsi Perché il simbionte È nel sangue Però mi sembra Un po' forzato Peccato Peccato anche Per il tono Davvero Infantile Dell'umorismo Che accompagna Tutta la pellicola Capisco che vogliono Dare la continuità Con il primo film Ma se Un conto se lo fai Nelle scene iniziali Ma nel finale Ti toglie davvero Quel poco di pathos Che c'era Quando Venom Dice Vaffanculo E gli mangia la testa È brutto È triste Avrei proprio preferito Che Eddie Brock Gli avesse detto Ora ti sto ascoltando Racconterò la tua storia Di come sei stato abusato Ed è per questo Che sei così E magari Lo avrebbero rinchiuso Di nuovo Però Davvero Non ha senso Che Smorzi la tensione In quel modo Parliamo Della scena Finale Di Di questo film Che è quella Per cui molti Sono andati al cinema Più che per il film Che per me Davvero non ha senso Andare al cinema Per la scena finale E non per il film in sé Però vabbè Questa è la potenza Che aveva il cinema Il film Quindi va bene La scena finale Ci mostra Come Venom Viene trasportato Viene fuso Nell'universo Del Marvel Cinematic Universe Probabilmente In base a quello Che è successo Con l'incantesimo Del Doctor Strange Che abbiamo visto Nel trailer Quindi vediamo La realtà Che si fonde L'hotel Brutto Diventa molto Chic E lui Non vede più La telenovela Di merda Che stava guardando Ma vede Il notiziario In cui viene Smascherato Spider-Man Tra l'altro Essendone molto Attratto Da Spider-Man Non ne vedo il motivo Dato che in televisione Venom Non può percepire La potenza Di Spider-Man Non può percepire Che è Un essere umano Che è talmente forte Da poter Gestire meglio La simbiosi Di quanto Non la possa gestire Eddie Però vabbè Anche lì Lo trattano Tutto in maniera Confusa Perché Poco prima Di questo evento Venom stava parlando Di come avrebbe Mostrato A Eddie Uno scorso Di 80.000 anni Di alveare Della storia Dei simbionti Non puoi Parlarmi Di questa cosa E poi fare La scena Del multiverso Perché Per quanto Possiamo Saperne noi Poteva essere Venom Che proiettava Qualcosa Nella mente Di Eddie È vero che dice No non sono stato io Ho capito Ma allora Non tirare in ballo Anche l'alveare Hanno voluto mettere Mille cose In un'ora e mezza E hanno Un po' confuso Le cose Secondo me Però Ripeto È tutto Un grosso spot Pubblicitario Per il futuro Del Marvel Cinematic Universe E dell'universo espanso Degli personaggi Di Spider-Man Niente di più La cosa curiosa Che prima Che iniziasse il cinema Hanno mostrato di nuovo Il trailer di Morbius Che ormai era caduto Nel dimenticatoio E mi sono ricordato Che nel trailer di Morbius C'è l'avvoltoio Di Michael Keaton E quindi Mi viene da pensare Se Morbius Sarà ambientato Nello stesso universo Dove vive Peter Parker E l'avvoltoio Di Michael Keaton Oppure Nello stesso universo Di Venom E sarà fuso Anche lui Grazie a questa Scena post credit Che abbiamo visto Con l'universo Di Spider-Man E di conseguenza Non lo so È per questo Che faranno uscire Morbius Dopo Spider-Man No Way Home Però ragazzi Che mischiotto Quando ci sono Due case che collaborano E una è la Sony Mamma mia ragazzi Mamma mia Vabbè Niente Sono stato lungo Anche stavolta Però almeno Ho cercato di dire Le cose in modo Non troppo prolisso Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questa pellicola Fatemi sapere Quanto hype Avete adesso Per Spider-Man No Way Home Noi ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Dove parlerò Dell'incantesimo Del Doctor Strange Sarà un video cortissimo Di 5-8 minuti Per i miei standard In cui vi dico Una mia teoria Sul perché Il l'incantesimo Del Doctor Strange È andato male In Spider-Man No Way Home Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto Vi dico Arrivederci Al prossimo video E con l'imbuto E con l'imbuto E con l'imbuto